Un boom di accessi e pagine visitate. Fa ancora record di numeri la diretta della Festa dei Ceri in questo 2014 caratterizzato da un epilogo imprevisto insolito con tutti i tre i Ceri nella Basilica di Sant'Ubaldo. La diretta televisiva di TRG trasmessa in streaming video su www.trgmedia.it ha fatto segnare nella sola giornata del 15 maggio qualcosa come 34.285 visualizzazioni di pagina con ben 11.156 utenti diversi, dati certificati Google Analytics che si sono connessi nell'arco della giornata. Di questi ben 1.300 da tablet e 2.200 da supporto mobile con le nuove applicazioni rese disponibili dalla collaborazione con Free Forum Zone. Numeri ingigantiti poi considerando l'arco temporale da 14 maggio diretta del Campanone al 18 maggio Festa dei Cerimezzani. In tutto 25.000 accessi e 78.000 visualizzazioni di pagina dati certificati Google Analytics. Un ideale parter planetario è quello che ha assistito alla diretta della Festa dei Ceri con utenti provenienti oltre che da ogni parte d'Italia da altri 66 paesi in tutto il mondo. Su tutti gli USA 364 utenti, la Francia 212, il Lussemburgo 200 da cui si è collegato in diretta Skype il ceraiolo Massimo Orsini, Regno Unito 120 e Germania 106 per stare ai principali. Numeri lievitati anche perché moltissimi hanno seguito la sintesi di ferita per ovvi motivi di fuso orario già cliccabile online nella sezione Ceri del sito. In particolare da Australia, Sud America e Nord America migliaia gli accessi nelle ultime 48 ore. Il tutto grazie ad un servizio nel senso più nobile del termine messo in campo dallo staff tecnico di TRG a beneficio di decine di migliaia di ogubini ed umbri impossibilitati a seguire la festa dei Ceri dall'Italia e dal mondo. Un riscontro gratificante per il network radio televisivo con sede in Gubbio che con la propria compagine tecnica per oltre due mesi lavora nell'allestimento della struttura operativa per la diretta del 15 maggio. Realizzata con oltre 30 postazioni di ripresa e 8 regie mobili è un lavoro di predisposizione logistica e gablaggio dell'intero percorso cittadino e montano stradoni iniziato alla fine del mese di marzo. TRG e www.trgmedia.it anche quest'anno hanno rinnovato la partnership con la fondazione Perugia 2019 e i luoghi di Francesco e dell'Umbria con la partecipazione in diretta del presidente Bruno Bracalente, il patrocinio del ministero beni culturali e degli enti locali, la collaborazione dell'università dei muratori, scalpelini di Gubbio e delle famiglie Ceraiole.